Una giornata, una mattinata anzi dedicata al Presidente Mattarella proprio per non dimenticare. Sì, una mattinata che abbiamo costruito devo dire all'insegna della semplicità, all'insegna proprio del rigoroso rispetto di quello che era il pensiero di Mattarella. Una persona grande però fondamentalmente umile, di grande vedute, di grande preparazione, di grande religiosità. Oggi per noi è una giornata sicuramente particolare come lo è ogni 6 gennaio perché lo diciamo sempre, il 6 gennaio è cambiata la storia del 1980, è cambiata la storia non solo di Castellammare ma della Sicilia e possiamo dire dell'Italia. Non dimentichiamo che Piazzanti Mattarella e Aldo Moro erano molto vicini, chissà perché entrambi sono stati uccisi da mani delinquenziali, mafiose o terroristiche. Oggi viviamo questa giornata con, devo dire, profondo rispetto. Sappiamo che anche a Palermo c'erano delle manifestazioni, però noi abbiamo voluto nel nostro piccolo onorare la memoria di Piazzanti perché era il paese nativo ed è il paese dove è sepolto Piazzanti Mattarella. Non abbiamo altro che portare avanti quello che è il suo credo, il suo pensiero. Oggi mi è piaciuto ricordare questa sua grande semplicità, questa sua capacità di relazionarsi con la gente, questo aprire il palazzo al confronto con la gente, la gente per bene, la gente, come diceva lui, che aveva le carte in regola. Infatti oggi, oltre alle autorità civili, militari e politiche, anche tanta gente è qui a onorare Mattarella. Sì, tanta gente, anche perché ieri sera io mi trovavo al concerto in chiesa madre della banda, è una ricorrenza che noi facciamo ogni anno assieme al coro della nostra principalissima patrona. E devo dire che mi è piaciuto ricordare ai miei concittadini che oggi per Castellammare non era una giornata qualunque, ma era una giornata particolare. E devo dire che li ringrazio tutti i miei concittadini perché hanno risposto veramente bene a questa cosa, a questo evento. Ripeto, ho puntato essenzialmente sulla semplicità. Oggi la politica è troppo distante dalla gente, dobbiamo tutti lavorare per riportarla invece a contatto con la gente. Il percorso di Piersanti Mattarella non finisce qui. Noi a Castellammare avremo ora quattro incontri nelle scuole, porteremo a parlare con i ragazzi, persone che hanno conosciuto Piersanti Mattarella, che si sono confrontate con lui, perché riteniamo che è giusto che le nostre generazioni continuino a ricordarlo, ma è ancora più importante che i ragazzi nelle scuole la conoscano. Dicevo l'altro giorno con profonda amarezza che tante volte mi capita di andare nelle scuole, io sono pure un docente, tra l'altro, e chiedere se conoscono Piersanti Mattarella, se conoscono Aldomoro. E mi guardano in faccia quasi sbigottiti a dire ma di che cosa sta parlando. Conoscere invece persone come Piersanti Mattarella e soprattutto il loro credo, il loro pensiero, è qualcosa di estremamente importante, perché se vogliamo avere una società migliore i ragazzi devono ritornare a capire che cosa significa vivere il bene comune, vivere con le carte in regola.